L'Italia che ci permette di vedere la prima panda, la seconda panda e ci permette adesso di fare confronti con la nuova panda che presentiamo praticamente questa sera in anteprima nazionale. Io direi che la cosa migliore è quella di vederla, di scoprirla e poi tutti quanti voi potrete toccarla, salirci e vedere le caratteristiche di nuova panda. Per la scopertura vorrei Anna-Lisa che è sparita. Anna-Lisa che è sparita. Anna-Lisa? È andata a Milano? Allora la facciamo scoprire alla signora, prego signora e alla signorina così almeno non la facciamo fanno. Anche lei è un po' signorina. Poi mi ho regalato il telo. Allora ecco voi nuova panna. La compro due. Sta a scherzare? La firma qua, la firma qua. Ecco, sono uguali. No vabbè, è uguale la mia. È uguale. Sono il primo. Cosa fa una bocchia tevro humova a mia? Ma si può mettere GPL? No, non ne fanno più. Ma nemmeno tu ce l'hai? Io sì, ho la rotina. Comunque ci dovrebbe stare il kit se vuoi la rotina. Cioè il kit di riparazione. Oppure quando tu la compri ci dovrebbe stare la cosa. Oh, io sì. La kit la vandalla. La kit la, lo voglio. Vandalla. Vandalla. Dai, io adesso ci vorrebbe essere domini assolutamente. No, comunque ci dovrebbe stare il fatto. Fallo. Fallo. Fa un po' come te pare. Che pari, ah, è ripenita. Che pari. Due dieci. Guarda qua, è scritto. Vandava, 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 vandava. Figa. E vai. Mi marci? Questo assomiglia al nostro. Questo è comodo. Al nostro. Tu arrivi, tiri la roba. Al nostro. Oh, c'è la chiave. Si è spostata la macchina mia? Oh, c'è la chiave.